Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo giovedì 9 di marzo, TG Mattina. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, partendo dal messaggero nazionale. In arrivo la riforma dell'IVA, zero imposte su beni essenziali, tasse leggere per latte e pasta. Le novità nel decreto fiscale. Unione Europea sul debito, regole più flessibili, ottima soluzione per l'Italia, accordo vicino, conferma Gentiloni, che rassicura dunque sulla flessibilità. Per quanto riguarda invece, subito dalla prima pagina, Perugia, mio figlio è morto per le cure sbagliate, riaprite il caso. I familiari di Alex Mazzoni chiedono di riaprire le indagini sul decesso dello studente di 17 anni, venuto a mancare a Perugia, l'11 marzo di tre anni fa, poi lo vedremo nel dettaglio. Vediamo quindi alla Nazione, con Meloni Caccellera, più migranti irregolari. Oggi, Consiglio dei Ministri a Cutro, dopo la strage, la Premier vuole ritoccare i flussi, Salvini intanto frena. La mia legge è superata, conferma Fini, l'ex ministro, proprio alla Nazione. Quindi, Covid, indagati gli ex ministri coinvolti Speranza, Grillo e Lorenzin. Prima, archiviazione per Conte, per quanto riguarda l'indagine sull'inchiesta Covid della Lombardia. Da Perugia, invece, già dalla prima pagina della Nazione, cure mai pagata la sanità Umbra. I soldi cercate in Venezuela, a dirlo, e l'atmo poi lo vedremo. Assisi, il re delle truffe, agli anziani, finisce in carcere. Da città di Castello, casa in fiamme, gravissimo, un ottantenne. Andiamo quindi agli approfondimenti, ripartendo proprio dalla Nazione. La strage in Calabria, niente pace, neanche da morti, scrive il quotidiano. A Cutro, il governo diviso, Meloni non chiude le porte ai migranti per necessità. La Lega via i clandestini. Oggi, nel luogo del naufragio, il Consiglio dei Ministri valerà le nuove misure sull'immigrazione. Braccio di ferro nella maggioranza, fino a tarda serata. Alla fine ci sarà un decreto unico. Si legge sempre sulla Nazione, norme inasprite per i trafficanti di esseri umani, multe più pesanti in caso di morti. La Premier, Meloni e forte del sostegno europeo, l'omologo olandese Ruth, troviamo soluzioni efficaci, dichiara. Le parole anche di Gianfranco Fini, colloquio con Fini per quanto riguarda la Nazione. La mia legge sull'immigrazione, datata, è tempo di cambiarla. La Bossi Fini è superato indenne, vent'anni di governi bipartisan. Oggi la proposta per superarla era disegnata su un fenomeno che non c'è più, conferma proprio l'ex Ministro. L'emergenza ora sono le richieste d'asilo, conferma proprio Gianfranco Fini, che è stato leader di Alleanza Nazionale, presidente della Camera, vice Premier e anche. Ministro dell'Epopea Berlusconi. Andando al messaggero, cambia il patto dell'Unione Europea. Regole meno rigide, ottimo per l'Italia. Il commissario Paolo Gentiloni, compromesso molto avanzato. Oggi via libera della Commissione al nuovo regime sugli aiuti di Stato. Stato si va verso incentivi agli investimenti e una maggiore gradualità nella riduzione del debito. Mentre intanto per il ponte di Messina il cantiere riparte, fine in sei anni. Si legge proprio sul messaggero. Le parole sono state di Matteo Salvini per i lavori sul ponte dello stretto. Strade, scuole e caserme saranno chiavi in mano. Arriva la spinta al PNRR. I lavori fino a 5,3 milioni potranno essere comprati attraverso le piattaforme Consip. Il Comune di Roma e l'Agenzia del Demanio si sono già mossi. Così le opere accelerano, ha detto l'amministratore delegato Consip Cannarsa. La riforma fiscale ancora sul messaggero. Zero IVA sui beni essenziali, meno IRPEF ai dipendenti. Testo in CDM la prossima settimana. Fisco più leggero su pane, pasta e latte. Più soldi in busta paga con tre aliquote, ma per ora niente taglio dei contributi. Questo si legge proprio sul messaggero. La prima aliquota potrebbe essere fissata al 23 o al 25%. Giulires alle imprese che investono. Pensioni su opzione donna si punta all'uscita a 59 anni. In bilico l'età legata ai figli. Con l'ultima legge di bilancio i criteri per l'uscita anticipata sono stati decisamente ristretti. Sul tavolo del Ministero l'ipotesi di eliminare il riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. E parlando di donne e il tempo delle donne ieri giornata dell'8 marzo, l'appello di Mattarella, violenze inaccettabili e la parità resta lontana. Il report del Viminale, 20 femminicidi solo da inizio di quest'anno. Stereotipi e pregiudizi sono alla base delle discriminazioni, conferma Mattarella. La Repubblica ha fatto progressi, ma certe mentalità sono sempre presenti. Con tanto di grafico purtroppo dei femminicidi nel 2022. Quasi 6.600 cittadine dell'Unione Europea uccise da un uomo della loro famiglia. E' il triste bilancio dal 2010 al 2021. Sanità sott'accusa. Covid. Il filone romano, scrive la Nazione. Non aggiornarono il piano pandemico. Indagati tre ex ministri. La Procura di Bergamo ha inviato gli atti su Speranza. Grillo e Lorenzin. Le accuse. Omissione di atti d'ufficio. 11 iscritti nel registro dei PM. La Grillo si difende. Attività che spettava ai tecnici, non a noi politici. Dunque, abbiamo visto prima la foto di Roberto Speranza, che è stato ministro della Salute dal 2019 al 2022, proprio negli anni della pandemia. Dal 2013 al 2018, invece, Battrice Lorenzin, Colletta, Renzi e Gentiloni. Dal 2018 al 2019, nel primo governo Conti, invece, Giulia Grillo. Questi i ministri indagati. Nel mirino anche Brusaferro, dell'Istituto Superiore Sanità, fece pagare i primi 200 tamponi, 750 euro l'uno. Cifra esagerata, viene rimarcato. Ma Conti incassa la prima archiviazione, scrive proprio la Nazione. Epidemia e omicidio colposi. Cadute le accuse nei confronti dell'ex Premier e altri del suo esecutivo, davanti al Tribunale dei Ministri. E poi sul messaggero. I nuovi divieti. Si fa il focus su questo aspetto. Foto dei figli minorenni. Parigi ferma i genitori social. Il garante, ora anche l'Italia. Sancito il diritto alla privacy dei minori, non agli scatti messi in rete dei familiari. Obiettivo è tutelarli dall'appedo, pornografia e dalle pratiche diseducative delle sfide. Anche una norma per mettere in guardia i suoi rischi di telefoni e tablet. Avviso sugli effetti nocivi come per le sigarette, scrive ancora il messaggero. La legge passata in prima lettura all'Assemblea nazionale, non vogliamo punire ma sensibilizzare. L'intervista a Carla Garatti, garante per l'infanzia, pubblico quindi esisto, è l'equivoco da cui bisogna difendere i giovani. Un'immagine sul web lascia traccia per anni e può alimentare il cyberbullismo, conferma appunto il garante Garatti. E poi la cronaca da Sora, lasciato tre giorni in pronto soccorso, anziano trovato morto nel parcheggio. L'uomo era stato colpito da un'ischemia, ma nei reparti dell'ospedale non c'era posto. Altro caso di malassanità che arriva appunto dal basso Lazio. Andiamo al Corriere dell'Umbria. Lo vediamo titolato in maniera piuttosto evidente. Umbria fuori dalla pandemia, scrive così il Corriere. Tre anni dopo l'inizio dell'emergenza il CTS annuncia inutili isolamenti e tamponi. Il Covid ora è come un'influenza, dunque raggiunto la fase cosiddetta endemica. La fotonotizia riguarda lo sport, il ciclismo e la Tirreno Adriatico. Show a Foligno con il belga Philipsen che ha vinto in volata la follonica Foligno. Sì, perché la partenza era proprio dal territorio Maremmano, terza tappa della Tirreno Adriatico. E brinda qui in foto con il sindaco Zuccarini, l'assessore allo sport di Foligno Decio Barili. Ancora dal Corriere sui box, sui lati, Capitale Cultura, Sisi sarà il volano dell'economia, il punto proprio sulla città del Santo Poverello. A Perugia muore dopo chemio, chiesta un'indagine, una vicenda di un 17enne, l'abbiamo visto anche dagli altri quotidiani. Città di Castello, casa in fiamme grave, un anziano incendio proprio in centro a Città di Castello. Ancora l'intervista all'ex sindaco di Perugia, Mario Valentini, io libero e fiero come la mia città, riporti il Corriere. Da Perugia i piloti del futuro formati all'Accademia del Volo, nei prossimi vent'anni saranno 500 mila posti. Da Terni, elezioni, Fratelli d'Italia conferma il no a latini, fumata nera dalla riunione di Roma. Spoleto, triangolo d'amore, in auto finisce impantanato. Dopo aver incontrato una coppia conosciuta su Social Network, un uomo è rimasto bloccato a Castagna Cupa, proprio nei pressi di Spoleto, nelle campagne spoletine. Per lo sport, volley, Champions, la Sir vince a Berlino, 3 a 1 in Champions League. Veniamo quindi alla nazione. I milioni cercati in Venezuela, Sanità Umbra, il caso dei mancati rimborsi per le cure dei bambini. Parla l'ex direttrice della Ollus di Lucca, a cui ha fatto causa l'azienda ospedaliera di Perugia. Non è colpa nostra e non siamo spariti, conferma appunto dalla Ollus. Il re della truffa intanto finisce in carcere, si fingeva poliziotti, si faceva consegnare denaro e poi i conti non pagati in albergo e i furti a raffica. Accademia delle Arti si apre al mondo, ecco tutte le novità a Perugia dopo la statizzazione. Zero iscrizioni, la scuola verrà chiusa, lo vedremo poi nel servizio curato ieri, appunto andato in onda del nostro Tg Sera. Gubbio, il calo demografico ha comportato proprio la chiusura del plesso di Carbonesca. Mentre San Francesco al Prato, gestione affidata a due imprese, ancora è geloso, impedisce la moglie anche di curarsi. Strada a pezzi, limita 30, esplode la protesta, Civitella Benazzone va riparata, dichiarano proprio coloro che ci abitano. E poi la storia dell'8 marzo, le storie dell'8 marzo, una che arriva da Città di Castello, donne, coraggio e talento, la lotta per i diritti negati. Vedremo quella di Pinalberti qui in foto quando vestiva una giovanissima Monica Bellucci. Città di Castello, casa in fiamme, ottantenne ustionato e intossicato, l'uomo si era rifugiato in bagno, soccorso dai vigili del fuoco è gravissimo, si legge appunto anche sulla Nazione. Passiamo al messaggero. Alex morto per una cura sbagliata. Perugia, tre anni fa il ragazzo venne a mancare a 17 anni, deceduto dopo sole, 4 chemio, ricordi il papà. I stanzi in procura, i periti della famiglia, c'erano i motivi per stoppare il trattamento. La fotonotizia anche qui riguarda la Tirreno Adriatico a Foligno, il pugno di Jasper Philipsen, è stato lui a superare per primo il traguardo della terza tappa del Tirreno Adriatico che ha fatto proprio capolinea a Foligno. Ha vinto il Belga in volati, campioni d'anno spettacolo e il prossimo anno ci sarà il Giro d'Italia, ricorda proprio il messaggero. Sopra, invece, mi ha infettato col Covid per tenermi a casa. Il virgolettato arriva da Perugia, condannato l'ex marito a dieci mesi con rito. Abbreviato. A Terni, gestione Villalago, chiesto un maxi ricercimento. Ancora, vedete, per quanto riguarda sempre la cronaca studentessa minacciata, basta, lascio Perugia. Decisione dopo l'ennesima irruzione dell'ex. Mentre avviato l'Itera Perugia, per quanto riguarda l'intitolazione dello stadio Santa Giuliana, ha Ilario Castagner da poco venuto a mancare il grande allenatore perugino. Insulti sessisti all'arbitro, quattro mesi di squalifica, calcio dilettanti violento, le decisioni del giudice sportivo. Sempre per lo sport, ma giocato, non violento, sotto la testata, sir, vittoria di forza in Champions a Berlino, finisce 3-1. Perugia calcio, santo padre, appello ai tifosi, venita il curi, come per il derby, confermando piena fiducia a mister Castori. Mentre da Terni e dalla Ternana, maledetto secondo tempo, mai un gol nella ripresa. Sottolinea proprio il messaggero nella sua analisi su cosa non va in casa Ternana. Passiamo al nostro sito www.trgmedia.it Ne parleremo proprio stasera, anche nel nostro Tg Sera, fine settimana all'insegna dello sport, con la quarta edizione della festa del Cross a Gubbio. Sarà una manifestazione davvero super, quella che si terrà sabato e domenica sotto i 5 colli. Fiammi in abitazione a Città di Castello, salvato un anziano, che comunque resta grave, ciclismo, Tirena Adriatico, Philipsen vince a Foligno, Ganna, Leder. E poi scorrendo la home tutte le altre notizie con il nostro archivio video, sempre aggiornato www.trgmedia.it Da Umbra 24, studente morto a 17 anni, le chemio andavano sospese, dichiara la famiglia e soprattutto il padre di Alex Mazzoni, che cerca giustizia. Mela Secchi, candidato sindaco di Terni, centrodestra ci ragiona. Cosa succederebbe in regione? Il punto proprio di Umbria 24 su tale scenario. Morte di Samuele De Paoli, cosa spera di ottenere la transpatrizia dal processo breve. Tempi rapidi e sconto sull'eventuale condanna per la brasiliana accusata di omicidio. Preter intenzionale al giovane Bastiolo. Andiamo quindi a Perugia Today. Fabrizio Castori resterà fino alla fine perché ci salverà. La conferenza stampa convocata di colpo dal presidente Santo Patre per smentire quanto è apparso su alcuni media. E annuncia anche duri provvedimenti in caso di futuri rossi. Sottolinea appunto Santo Patre. Perugia spaccati in centro storico, ladri in fuga con la cassa, l'assalto in corso, cavura all'alba, caccia ai responsabili. Veniamo quindi anche a tuttoggi.info. Incendi in un palazzo del centro storico a Città di Castello. Vigili del fuoco salvano ottantenne. Amministrativa, sinistra, prove di riscatto, scusate, guardando alle regionali. A Spoleto, morto di infarto, procura apre inchiesta, fratelli, incaricano avvocato. I familiari dell'uomo, venuto a mancare al San Matteo degli Infermi, chiedono chiarezza sul caso ci sia un fascicolo aperto dalla procura di Spoleto. Andiamo quindi a notizia diretta.it. Il presidente Floridi lascia la Lega ed entra in Fratelli d'Italia. Il presidente del Consiglio Comunale conferma il sostegno a Carizia. Fratelli d'Italia, per l'appunto, fuori briganti, arriva il commissario Rubeca, si legge proprio su notizia diretta. Intanto Luca Turcheria, eletto segretario della FLAI CGL, è docente a scuola di competenze digitali con il Campus for Steam, per quanto riguarda la tre giorni di formazione promossa dal Campus Da Vinci. Andiamo a Gualdo News, invece, vicenda Saxa, ha convocato il tavolo di crisi di regione, obiettivo raggiunto, conferma Forza Italia. Da Nocera Umbra, invece, l'Escape Room, dedicata a Orsolina di Catagnone. Noi ancora da Nocera Umbra, protagonista, la seconda edizione della Rally Città di Foligno. Foligno. Torniamo ai quotidiani, torniamo al Corriere dell'Umbra. Si riparte da ciò che resta, secondo gli esperti, pochissimo, praticamente nulla, del coronavirus. Il CTS dell'Umbra, Covid endemico, pandemia finita. Nel cuore verde, terapie intensive svuotate, restano solo tre ricoverati da 12 giorni. scendono sotto i mille i rinchiusi in casa. Qui in foto Fabrizio Stracci e Marco Cristofori, membri del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbra. Isolamenti e tamponi, misure ormai superate, conferma Stracci, nelle acque reflue minore RNA. Virale, questo lo studio da parte, invece, del dottor Cristofori. E poi ancora, violenza su medici e infermieri, scatti il piano di prevenzione. A Villa Umbra si discutono strumenti e strategie per arginare il fenomeno. Sempre per quanto riguarda la sanità, serve un fondo regionale per le donne in gravidanza, mozione depositata da Fioroni, Carissimi e Pastorelli della Lega in Regione. Comunali, stallo su latini, primarie nel centro-sinistra, doppio vertice per scegliere i candidati di coalizione, parlando anche di politica. E poi, per quanto concerne sempre le finaliste alle capitali italiane della cultura, ora si fa il focus su Assisi, turismo, Assisi leader, in due anni possibile pioggia di visitatori, risvolto economico enorme con l'intestazione di capitale italiana della cultura 2025, Matera tra ancora benefici dal successo 2019, quando vinse il titolo europeo. A parlare sono gli intervistati proprio del Corriere, a partire da Simone Fittuccia, possibile incremento del 15-20% sul fronte del turismo, specialmente italiano, conferma appunto Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria. Vincenzo Di Santi invece è presidente Commercio, così diventano ancora più preziosi il giubileo, e anche gli ottocentenari, conferma appunto Di Santi. E poi Gabriele Caldari, promotore di Altea, alloggi, locazioni turistiche ed extra alberghiero Assisi, dalle tradizioni all'arte, creeremo un prodotto di assoluta eccellenza. Grande credito nel mondo, l'analisi dell'imprenditore Gian Piero Bianconi, secondo me si deve candidare un'unica città e non il territorio, dichiara proprio la Sisano Doc, che ha idee molto chiare sulla candidatura e sulle caratteristiche che possono aiutare nella corsa alla vittoria, conferma proprio l'imprenditore Gian Piero Bianconi. Valori forti per il business, Nicola Angelini di Confimi, rimarca il ruolo decisivo delle imprese. E poi le parole anche di Gino Sirci, Sir Safeti è presidente della Sir Perugia, alto spessore culturale, conferma Sirci per l'ennesima chance di promozione appunto di Assisi. Le altre umbrillizia ricorda sempre il Corriere con il Pozzo di San Patrizio nel logo di Orvieto, rappresentare il progetto Metameraviglia con cui concorre la città del Duomo. Andiamo quindi anche all'Accademia del Volo in Umbria, formiamo i, vedete, piloti del futuro, si legge proprio sul Corriere. Serve un triennio per la prima licenza, i ragazzi sono dischi vuoti da scrivere, il comandante Gabriele ha presentato i corsi durante le giornate flessibili, responsabili della didattica e allievi dell'Accademia del Volo hanno spiegato ai 200 studenti del liceo Alessandri di Perugia qual è il percorso per prendere i comandi di un aereo. La collezione è anche l'aeroporto internazionale di Assisi, un fotoreportage piuttosto completo da parte del Corriere dell'Umbria sul tema carriera anche per le donne. Prima prendevo le gocce per la paura, ricorda Alessandra Bianco per l'appunto, questi proprio coloro che seguono da vicino gli studenti per quanto riguarda l'Accademia del Volo. Cambiando argomento, economia, Umbria, terra di case popolari, nel report di Welfare Italia Index, la regione tra le migliori anche per posti negli asilo nido autorizzati, con 74,6 alloggi ogni 100.000 abitanti e secondi in Italia e doppia la media nazionale di 30,2. Dispersione scolastica, il 21% degli studenti non raggiunge il titolo, crollo sotto questo ambito. Fondi intanto per Trasimeno e Terre dell'Olio e del Sarantino arrivano 130.000 euro dopo la conferenza unificata, l'annuncio del sottosegretario all'interno Prisco. Le storie di Cronaca Nera, i casi aperti sulla Nazione. Si parla del caso Cospito, scontri a Torino tra gli anarchici denunciati, ci sono anche degli Umbri. In tutto le persone finite nel bidino della magistratura sono 47. Il questore della città piemontese ha anche emesso 28 fogli di via obbligatori da 1 a 3 anni. Qui proprio immagini di sabato scorso durante la manifestazione degli anarchici, organizzati in segno di solidarietà per Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 4 mesi contro il regime di carcere duro. Ci sono verificati proprio dei disordini. Le misure cautelari scaturite dall'indagine faranno all'attenzione del riesame il prossimo 14 marzo. Mi ha spento sigaretta addosso, sono terrorizzata. La trentenne maltrattata dall'ex ha raccontato la sua storia in televisione, alla vita in diretta, noto format pomeridiano di Rai 1. Investiremo su personale e rieducazione. Intanto parla per quanto riguarda anche la situazione dei carceri regionali, in questo caso il sottosegretario Andrea Ostellari per l'appunto sul tema. Sempre per quanto riguarda la cronaca, in carcere il mago delle truffe si fingeva poliziotte e stato arrestato da agenti veri ad Assisi. Alle vittime diceva di appartenere alle forze dell'ordine pur di ottenere denaro, oppure soggiornava negli alberghi e scappava senza pagare a suo carico anche numerosi furti. Folle di gelosia le impedisce anche di andare in ospedale da Perugia, le controllavi il telefonino e le aveva rubati il permesso di soggiorno. Il marito, 35 anni, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La spaccata in centro a Perugia si cercano due uomini che a bordo di uno scooter intorno alle 4 di ieri si sono fermati dinanzi al ristorante Poker in Corso Cavour di Perugia, hanno preso una mattonella di petra, hanno sfondato la vetrina. Mentre il caso De Paoli, verso l'abbreviato, Patrizia sarà presente a tutte le udienze, conferma il legale della Trans. I nodi da sciogliere, le spine della sanità Umbra, Atmo si smarca dalle accuse. I 2 milioni per le cure dei bimbi chiedeteli alla società venezuelana. Parla l'ex direttrice della Ollus di Lucca, cui l'ospedale di Perugia ha fatto causa per i mancati rimborsi. Non è vero che siamo spariti, abbiamo sempre collaborato con l'azienda ospedaliera, ma non è colpa nostra, conferma Enrica Giavatto, ex direttrice dell'associazione Trapianto Midollo Osseo Atmo, appunto, che aveva 11 dipendenti e che adesso si trova coinvolti in una vicenda di cui è responsabile a dire proprio dell'Atmo e di Enrica Pentreleos de Venezuela, per l'appunto. L'andamento del Covid, poco più di mille positivi, il dato più basso da ben 18 mesi, 103 i ricoverati, e poi l'iniziativa alla notari, abbi cura di chi ti cura le violenze contro i sanitari, sensibilizzare cittadini e operatori. Veniamo al messaggero, le storie drammatiche di due ragazzi, il mio Alex ucciso da cure sbagliate, riaprite il caso. Tre anni fa il ragazzo venne a mancare a 17 anni, deceduto dopo quattro chemio, ricorda il papà. I stanze in procura, i periti della famiglia, c'erano motivi per stoppare il trattamento. Dopo l'autopsia è stato tutto archiviato, prese decisioni imprudenti, ha detto la dichiara la famiglia, diagnosticato una leucemia non fulminante, in 20 giorni interrotti i sogni del mio ragazzo. Morti di Samuele, faccia a faccia tra la mamma e Patrizia, quindi ancora, mi ha contagiato col Covid per stare in casa sola con lui. Condannato, l'ex diventato poi uno stalker, per anni persecuzioni e appostamenti, donna ricattata con un video hard, se non torni con me lo faccio girare. Fin dall'inizio della nostra relazione, ricorda la donna, era gelosa, assillante, voleva controllare tutto questo l'inferno di una donna 50enne, vissuto con l'ex partner, diventato poi un vero e proprio stalker. Studentessa minacciata, nessuna tutela, sono costretta a lasciare Perugia, dichiara la 30enne. Mancata revisione, niente assicurazione, stanati oltre 200 pirati della strada. Decisivi gli accertamenti svolti dalla stradale con le telecamere che leggono anche le targhe. Questo dunque per quanto riguarda le notizie in primo piano di carattere regionale, che proseguono sul Corriere dell'Umbria, con l'intervista all'ex sindaco di Perugia, Mario Valentini, vi sento libero e fiero come la mia Perugia, l'ex sindaco Raviva Mugnano, dove scrive, coltiva l'orto e fa lunghe passeggiate. La sua intervista, dunque, sul Corriere dell'Umbria. Ma poi, per quanto riguarda la voce dei lettori, il punto tra Todi e Marsciano, dove la vegetazione subisce la proliferazione dell'arbusto rampicante. Alberi strangolati dall'edera, si legge proprio su il Corriere dell'Umbria. Comune e anche altri territori, e che mette una situazione comune, scusate, anche ad altri territori, che mette in evidenza la possibilità che acqua e sostanze nutritive non arrivino alle piante, soffocandole, come si vede anche da queste foto. E poi, da Perugia, invece, a San Francesco al Prato, museo digitale e concerti. Affidata alla gestione del complesso alla società Munus di Roma e Mea di Ponte San Giovanni. Il Comune partecipa ai costi di gestione con oltre 83 mila euro ogni 12 mesi per nove anni. L'apertura entro l'anno corrente. A parlare è Lucia Fiumi, progetto solido certificato da una banca conferma per quanto riguarda San Francesco al Prato. Intanto, tre studentesse della Stranieri in giuria al Festival di Nantes, la kermesse dedicata al cinema italiano, fa parte del progetto Erasmus+. McDonald, che premia cinque giovani dipendenti. Borse da 2.000 euro per gli studenti lavoratori dei ristoranti di Perugia, con le strade a Corciano e San Sisto. Mentre, corsi per esperti in accise e questioni doganali, doppia convenzione tra ADM e Università di Perugia, coinvolti anche Adisu ed ex fondazione Carisp. Ancora, Sport Therapy Day all'autotromo, i fondi raccolti donati a Oncologia in questa iniziativa promossa dalla campionessa motorsport Deborah Broccolini. Fotografi alla scoperta dell'Umbra, i giovani videomaker del progetto Nikon Creators, già al lavoro. Sempre per la pagina regionale, lo vediamo anche sul Corriere, contagia volutamente la ex con il Covid. L'uomo la minacciava, peraltro, se non torni con me, pubblico il video. Ott, la donna finì in terapia intensiva e ce la condanna a 10 mesi in abbreviato per un 49enne accusato di stalking. Non accettava la fine della relazione. La picchia e le vieta di farsi curare, la polizia denunciato per maltrattamenti, un 36enne originario della Tunisia. Quindi ancora, morta a 17 anni in ospedale, il papà lo potevano salvare, deceduto dopo l'echemio per una leucemia, la famiglia chiede di riaprire le indagini per il caso di Alex Mazzoni. La trans è imputata per l'omicidio di Samuele, chiede lo sconto di pena depositata all'istanza per il rito abbreviato e poi ancora, cane assalita e ferito da lupi in una casa alle porte della città. È successo proprio a Perugia. La denuncia della proprietaria, altre segnalazioni sempre di avvistamenti di lupi nei giorni scorsi. Veniamo quindi anche al messaggero. Anche qui San Francesco al Prato, scelto chi gestirà tutto, per nove anni struttura al raggruppamento composto da Munus e mea Concerti. Il comune mette 83 mila euro l'anno, tavolo tecnico per definire i dettagli. Viabilità per le buche, una strada a 30 all'ora, il tratto di Civitella-Benazzone-Molleschio, in particolare in quello che va dall'intersezione con la strada comunale di Civitella-Benazzone al confine con il comune di Gubbio, un'altra strada che diventa percorribile solo a 30 km orari, proprio per il suo stato. Santa Giuliana e Lario Castagnier, partito l'iter, da ieri il dibattito in commissione, saranno chiamati familiari tifosi ed ex giocatori, proprio del grande tecnico da poco venuto a mancare. Dermatite atopica da dermatologia, una campagna di sensibilizzazione, e poi giovani web territorio, adesso sbarca anche un progetto europeo proprio sul tema. L'inaugurazione ufficiale, quella dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia, primo anno da statale e diretta da una donna, è la nuova Accademia. Tiziana D'Achille sarà lei a dirigerla, la città condivida le nostre iniziative culturali, il sindaco Romizzi ringrazia il presidente Rampini, persona giusta al posto giusto. Tra le novità in arrivo un corso di laurea in cinema, grazie all'accordo con l'Umbria Film Commission. Qui proprio la neodirettrice Tiziana D'Achille, la prima a sinistra, il presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Mario Rampini invece a destra, assieme ai tre nuovi accademici di merito, ovvero Bruno Corà, Barbara Iatta ed Ettore Vitale. Università, due corsi di formazione in collaborazione con le Dogane, questo l'accordo che invece è stato fatto. Poi si parla anche di disturbi del sonno, incubo per un Umbro su quattro, il focus del messaggero, l'insonnia, il problema è più frequente, crescono anche i casi di apne notturne, alterazione del ritmo cicardiano e gambe senza riposo. Tutti i consigli degli esperti AFAS, cena leggera, evitare tv a letto, allenamenti pesanti, aiuta a dormire. E poi storie di donne protagoniste, tra cui Pina Alberti, la prima a vestire la divina Monica Bellucci. Qui proprio in foto Pina Alberti in uno scatto dell'epoca, anni Ottanta, con una giovanissima Monica Bellucci, mentre tre progetti al femminile premiati a Perugia. A Todi la giornalista invece Valentina Parasecolo, coordinatrice dell'ufficio stampa del Parlamento europeo, ex giornalista di Rai e la Sette, la Parasecolo nativa proprio di Todi. Veniamo dunque anche alla Nazione con la svolta dell'auditorium, ecco da chi sarà gestito San Francesco al Prato. Sono Minus e Mea Concerti, Mea Concerti che fa parte chiaramente di suoni controventi. Abbiamo visto prima anche le parole di Lucia Fiumi. Avranno la struttura in mano per nove anni e riceveranno dal comune 68 mila euro. Ancora in titolare di Santa Giuliana a Castagna, ma c'è l'incognita dei tempi. Provinciali, altri lavori, tutte le zone coinvolte, Castel del Piano, Bosco e Trinità, le aree interessate. Strada ridotta a Pezzi, arriva in limita 30, Civitella. I cittadini protestano, va riparata per l'appunto. La strada che porta a Gubbio, oltre a problemi annosi, dopo la pioggia di gennaio, è diventata ancora più pericolosa, con buche profonde in entrambe le carreggiate. Viene appunto rimarcato. E poi, 8 marzo, una festa per riflettere. Pina Alberti, pioniera della moda, scoprì per prima il talento della divina Monica. L'imprenditrice alto-tiberina vestì una giovanissima Bellucci che sfilò al Teatro Comunale prima del grande salto a Milano. Conservo gelosamente quella foto, ha detto proprio Pina Alberti, qui accanto al sindaco Secondi. In alto a destra invece, proprio una foto di una giovanissima Bellucci vestita da Pina Alberti, che è stata appunto di riferimento anche per altri grandi artisti, come Sergio Enrico e il maestro Alberto Burri. Ci negano persino di sognare e studiare può costare anche la vita, da sisi di riflettori accesi su chi è privata di ogni diritto, nell'incontro che si è tenuto alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. Questo per quanto riguarda dunque la pagina regionale. Passiamo ai territori, lo facciamo partendo proprio. Abbiamo visto, e lo vedremo a breve anche, che il plesso scolastico di Carbonesca dovrà purtroppo chiudere. Vediamo nel dettaglio, anche con le parole della dirigente Marina Angeli, quanto accadrà. Era stata riaperta il primo aprile del 2022, dopo quattro anni di lavori di consolidamento da 700 mila euro con i fondi post-sisma 2016. Oggi chiude i battenti. È la scuola di Carbonesca, frazione a sud del comune di Gubbio. L'annuncio è stato fatto dalla dirigente in reggenza del secondo circolo didattico, Maria Marinangeli, la quale, in una riunione con le istituzioni, la proloco, le docenti e le famiglie degli studenti che frequentano la primaria, ha annunciato che per l'anno scolastico 2023-2024 la frequenza nel plesso non sarà più possibile. Un destino che non stupisce, sia perché da anni nella scuola vi era solo una pluriclasse, sia in considerazione della situazione generale in cui la regressione demografica costringe i plessi scolastici o gubini a fare i conti con un numero sempre inferiore di bambini e di bambine. La scuola di Carbonesca non ha fatto eccezione e malgrado il grande lavoro svolto dal personale docente che di recente aveva ottenuto un importante finanziamento per la realizzazione di un'aula natura nel giardino della scuola, sarà costretta a chiudere. Per un dirigente scolastico è sempre un dolore, soprattutto se il dirigente scolastico si appassiona a quello che è il proprio lavoro. Io tutto avrei voluto fare meno che chiudere la scuola di Carbonesca. Siamo andati a ottobre ad inaugurare l'aula natura con appunto questa progettualità. Il WWF aveva scelto proprio Carbonesca ed era l'unica scuola dell'Umbria ad avere questo tipo di esperienza didattica che io mi auguro che possa rimanere in qualche modo come patrimonio del territorio, quantomeno. Io ieri veramente quando abbiamo comunicato ai genitori che la scuola non funzionerà più, dall'anno prossimo ho veramente chiesto a gran voce sia al presidente della Prologo che all'amministrazione comunale che era presente di continuare a lavorare affinché quel presidio culturale continui ad essere un presidio culturale per i bambini della zona. È chiaro che chi lavora nella scuola parte sempre dalla pedagogia di Don Milani che era riuscito a fare a Barbiana veramente un presidio scolastico importante. Quindi se uno prende un po' le mosse, l'esempio anche da quell'esperienza là, il dolore si decuplica nel senso che è sempre triste comunicare ai genitori che la scuola viene chiusa. Io ho visto delle mamme sconfortate, qualcuna addirittura piangente proprio perché la loro vita si è svolta in quella scuola. Però diciamo che noi abbiamo messo in campo tante idee e continueremo a metterle in campo e continueremo ad essere a fianco come circolo didattico, indipendentemente da chi prenderà le sorti di questo circolo, continueremo ad essere a fianco di quella comunità scolastica che è una comunità scolastica che all'interno del secondo circolo è stata particolarmente importante. E restiamo in materia scolastica, parlando però di cantieri scolastici dal Corriere dell'Umbra, Castiglione del Lago, alla scuola Medi e Lavori Fermi, i rappresentanti dell'associazione La Voce dei Cittadini, Lodovicchi e Bernardini all'attacco sul cantiere da 3,85 milioni. Le opere dovevano essere finite entro il mese di maggio, viene rimarcato. L'amministrazione preferisce non replicare alla richiesta di spiegazione da parte dell'associazione con le parole degli ex consiglieri Danis Lodovicchi e Pierino Bernardini. Quindi, andando invece nell'assisano, anche qui la notizia del truffatore seriale che finisce in manette, arrestati il 36enne, decine le vittime, Bancomat, carte di credito, telefonini, cellulari e altri dispositivi sono stati ritrovati e riusciti più volte a soggiornare senza pagare strutture ricettive del luogo. Capitano del perdono, Pennellate Rosa, premiata la Presidente del Serafico, Francesca Di Manu, qui in foto, premiata appunto nell'ambito di una donna al servizio di chi non ha voce. Questa appunto la Kermess, infatti, da cui è stata premiata. Eletto anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi ad Assisi, Benedetta Battistelli e la Sindaca. Mentre da Bastia Umbra a Expo Casa Archeodesign e Ristrutturazioni Acrobatiche. La 39esima edizione prosegue Umbra e Fiere con l'evento dedicato all'home living e con altri approfondimenti da parte degli esperti. Da Todi, Parco della Consolazione, lavori, indirittura d'arrivo, area verde e parcheggio fruibile entro la fine del mese, 431 i mila euro investiti. Da Marciano parla Montanaro, sia piace perché sa rispondere ai bisogni degli utenti. Il Presidente commenta i dati dell'indagine sull'azienda che si occupa di rifiuti. Andando invece in Alto Tevere, l'abbiamo vista, la regina della moda Pina Alberti fu la prima a vestire Monica Bellucci con tanto di foto d'epoca proprio di Pina Alberti assieme alla Bellucci. Lottò per l'emancipazione femminile, il ricordo di Argentina Altobelli che si batte contro le discriminazioni in agricoltura. Ieri è stata dedicata una rotatoria proprio in città. Memorie di una ladra riletto da Monio Vadia, successo per lo spettacolo in anteprima nazionale al tratto degli illuminati. E poi la cronaca casa in fiamme, grave un anziano, paura in piazza Raffello Sanzi, un uomo di 80 anni trasferito all'ospedale di Ravenna in prognosi riservata. Ancora trova portafogli a terra e lo prende. È stata denunciata una donna incastrata a Città di Castello dalle telecamere. La scambia per stalker e chiama la polizia. Gli agenti hanno scoperto che la donna aveva solo bisogno di un riparo per la notte. E poi stella d'oro al merito sportivo. Giovanni Spelli, l'onoreficenza al dirigente del Canoclub conferita dal presidente nazionale del CONI Malagò. Andiamo anche a San Giustino. Rubano gasolio, due gli arresti. La coppia fermata mentre scappava con 350 litri di gasolio presi dai tir in sosta. Umberti, Deppi, in acoteca diffusa, viaggio nel patrimonio perduto. Il libro di Monsignor Vispi sarà presentato domani all'università per la terza età. A Gubbio, strada contessa, sempre lente di ingrandimento puntata. Con il sindaco che incontra i titolari delle attività, confronto trastirati e associazioni di categoria per limitare i disagi durante il periodo di chiusura per i lavori tra galleria e viadotto. Restalta l'attenzione sulla tempistica degli interventi, ha detto il sindaco, preoccupazioni espresse anche dai comuni delle vicine Marche. Fondazione contro l'usura, dibattito sulla legalità, oggi alle 17, primo offo dall'Istituto Cassata Gattapone. In particolare si parlerà dell'accesso al credito con Fausto Cardella. Eletta nuova segreteria di SPI, CGL Alto Chiascio, al centro dell'azione sanità, servizi alle persone e mobilità. Francesca Torcolini, Guido De Prisco, Giancarlo Tittarelli e Lilli Mirabassi. Questa è la squadra proprio dello nuovo SPI. Alla scoperta del territorio, grazie a Matteo D'Agualdo, andiamo ovviamente a Gualdo Tadino, al pittore dedicato in un sito interattivo di promozione e nuovi studi universitari. Intanto l'assessore regionale Fioroni, ribatte al sindaco Presciutti, convocato il tavolo per la cassa integrazione, questo per quanto concerne ancora la vicenda dell'extagina. A Nocera Umbra, fumanti, confermato maestro della Corale. Quindi studenti tedeschi ospiti dei colleghi del Casemiri, sempre a Gualdo, dove prosegue fino a domani il soggiorno dei ragazzi del Carl Friedrich Gauss Gymnasium. Verrà ricambiata appunto tale ospitalità nel mese di maggio. Andiamo quindi a Foligno, affidati i lavori per la pista ciclabile, si sbloccano le pratiche per il tratto tra via Arcamone e i Canapè. Cantiere a maggio, conferma il vice sindaco. Inaugurale del Panchine Rosso in via Marconi, lo sostiene l'assessore De Bonis, e poi un violoncello del Settecento, il pianista di Battiato, l'Auditorium. La coppia d'Indo Guaitoli, aprirà domenica la nuova stagione concertistica degli amici della musica. Vittima di bullismo a 13 anni, ancora da Foligno, la testimonianza di Luisa Felicioni, scelta per la campagna della polizia. Ragazzi, chiedete sempre aiuto, rimarca Luisa. E poi ancora Avant Rock, d'Avanguardia, stasera allo Spazio Zut, nuovo appuntamento con la musica internazionale. e da Trevi nascono gli amici del Polo Culturale, ancora Arceri Folignati, vincenti nel Lazio, soprattutto Tiburzi e Scarponi. Spoleto, saldi ok, ora servono eventi, parla Barba Nera di Confcommercio, format dello sbaracco funziona, Petrini di Federmoda, intravediamo un po' di luce, confermano appunto i due. Conosce coppie online e si perde dopo l'incontro. Arenato, con l'auto, ha chiesto aiuto alla polizia, sceso dal veicolo per utilizzare il cellulare, non è riuscito poi a ritrovarlo, è successo proprio a Spoleto, nelle campagne spoletine. Studenti dell'alberghiero raccontano i luoghi del turismo e poi ancora San Benedetto da Norcia via I Ponteggi si punta a rimuovere le impalcature per l'11 luglio in occasione delle celebrazioni del Santo, con tanto di immagini proprio del maxi cantiere da tempo ormai a San Benedetto di Norcia. Premiato il documentario sul trafugamento della Viga, da Montellone di Spoleto e da Casterri Tardi, esempio per i piccoli comuni, a dirlo il sindaco Sabatini a Roma all'incontro nella sede di Anci. Veniamo a Terni, la politica in primo piano, con Fratelli d'Italia che non arretra, sul no a latini bis e punta a Masselli. Neanche la riunione romana tra i vertici nazionali della coalizione di centro-destra, presenti i responsabili degli enti locali, dei vari partiti, ha sciolto però i nodi su Terni per quanto riguarda i candidati a sindaco. Nuovo confronto oggi, altre ipotesi per il carroccio sono i nomi di Melasecche e Alessandrini. Intanto l'accordo con l'università penalizza in Santa Maria, il PD chiede alla regione di ritirarlo e raccoglie firme per salvare l'ospedale. Riapre lo spurtello dei consumatori per la cronaca a 70 anni sorpreso con la droga da spacciare e poi a marattana schianto tra due auto, grave una donna. Veniamo quindi a Villalago, ipotesi d'anno era reale, con la Corte dei Conti che contesta alla cattiva gestione dei dipendenti della provincia, alla società che amministra il bene. Vittorio Sgarbi presenta il suo libro su Canova, alle 21 al teatro comunale di San Gemini. E l'addio poi a Miniucchi, l'autore di Iperion, lo scultore scomparso a 99 anni, suo uno dei monumenti simbolo proprio di Terni. Carcere di Sabbione, risolveremo il sovraffollamento, la visita del sottosegretario alla giustizia o Stellari per verificare proprio le condizioni dei detenuti. Numeri che non tornano nelle celle della casa circondariale Eternana, 525 carcerati invece di 420, rimarca proprio il Corriere. Intanto vinta al supernalotto oltre 60 mila euro alla tabaccheria Macellari. Andiamo quindi a Narni, anzi ad Amelia principalmente. Trasferimento dei posti letto, sbagliati i tempi e le modalità, parla il sindaco Pernazza, che incontrerà stamattina la Regione e il pomeriggio anche la Prefettura. A Narni si invece festa al Teatro Manini per i 60 anni della fondazione del Panathlon di Terni. A Orvieti invece ospedale, nuove attrezzature verranno utilizzate per i pazienti con disabilità motore e cognitive, in particolare la sclerosi. Multipra questa importante donazione a Santa Maria della Stella, grazie anche al Lions Club. Una mostra intanto sulla pittrice Giuseppina Anselmi Faina, Palazzo Faina, riflettori fu una delle poche artiste dell'Italia dell'Ottocento, attiva tra Umbria e Piemonte. E tempi maturi poi per l'Unione dei Comuni dell'Alto Orvietano, a dirlo l'ex consigliere provinciale Buconi, che auspica l'avvio del percorso istituzionale per mettere insieme ben cinque municipalità. Andiamo al messaggero, incendio in casa, anziani in ospedale, successo a città di Castello. All'interno c'era un ottantenne che si è rifugiato nel bagno, ustioni in varie parti del corpo, trasferito a Ravenna, al centro specializzato. Assisi faceva furti, facendosi poliziotto, è stato arrestato. Città di Castello, sotto la pioggia senza casa, è stata aiutata dalla polizia. Gubbio, l'abbiamo visto prima, niente iscrizione alla primaria di Carbonesca e la scuola deve chiudere. San Giustino rubavano gasolio, in due finiscono ai domiciliari. Gualdutadino un autovelox contro i pirati della strada, in arrivo proprio nell'area gualdese. Così abbiamo soccorso la ragazza rimasta ferita. Parlare il Folignate, Trabalza, protagonista di un salvataggio sulle piste da sci, volontario da vent'anni, è parte della task force che si occupa proprio di soccorsi. Cocaina per 50.000 euro, l'indagine s'allarga proprio per questo giro di droga, partita da fuori regione, ma che fa capolina proprio a Foligno. Cannare, il centrosinistra unito, candida a sindaco Alessia Sirci, Amici della Musica, stagione al Via. A Spoleto, paziente morto in ospedale, spunta un altro esposto per il settantenne di Cascia, promuovere l'iniziativa, il neocostituito comitato civico per salute ed emergenza. Basilica di San Benedetto, pronta entro il 2025, questo l'annuncio del Ministero per quanto riguarda Norcia, e poi Tonelli ricorda il magico Carandenti, il direttore di Palazzo Callicola, Marco Tonelli appunto, emana questo ricordo. E poi chiesto, maxi disartimento per la gestione di Villalago, anche sul messaggero, con le scipoli rischia di chiudere il centro sociale, centrosinistra, idea primaria, Fratelli d'Italia-Roma per serrare le fila per le votazioni che ci saranno per il sindaco a Terni il prossimo mese di maggio. Convenzione, Casciari vuole cambiare le carte, ecco il mio progetto, col parere di tutti i direttori di dipartimento ospedalieri, ha modificato la proposta dell'ex direttore generale Chiarelli. Narni sorpreso a spacciare vicino alla scuola, fermato un narnese ventenne. Inquinamento alle stelle, la conca non respira più per quanto riguarda la questione ambientale, oltre 4 milioni già deliberati, stanziati, altri 25 per 8 nuove linee di intervento. Si legge proprio sul messaggero. Orvieto, capitale italiana della cultura, ha lanciato il nuovo logo della candidatura. Scuola, una giornata contro ogni tipo di stereotipo per questo centro di formazione che nasce proprio dalla didattica. Vediamo anche la nazione, arriva in via libera al nuovo mulino, il comune ordina di demolirlo da Passignano, ma il TAR da ragione al proprietario. Quindi alberghiero conquista striscia notizia, protagonista delle ricette anti spreco con pasta di vina con scarti terreni che sono stati appunto protagonisti nel noto format di Canale 5. Zero iscrizioni per la prima classe, la scuola di Carbonesca sarà chiusa. Intanto al via anche il festival di danza Renato Fiumicelli che si terrà per la quarantesima edizione dal 10 al 12 marzo al Teatro Comunale Ronconi domani pomeriggio ad aprile il festival ci sarà un ospite speciale ovvero il balletto di Kiev. Intanto scambio culturale liceali bavaresi a Gubbio su iniziativa di Sabrina Antonelli dell'Istituto Casimiri. Quindi città di Castello fuoco in un appartamento che ha visto un anziano ustionato e intossicato. Ancora per quanto riguarda Foligno sanità polemiche infinite va bene la riorganizzazione ma la gente deve curarsi ora questo dopo il consiglio aperto sui nodi della salute sul terzo polo ospedaliero quindi cannara al voto unità e partecipazione con Alessia Sirci candidata del centro-sinistra da Terni al fianco dei cittadini tornano gli sportelli che tutelano i consumatori c'è anche la riapertura del tribunale ad Orvieto scatta la mobilitazione e poi settantenne sorpreso con quattro dosi di cocaina revisione assicurazione contro le multi della stradale a Terni veniamo dunque al tempo libero cultura spettacoli società dalla nazione belle arti la svolta dell'accademia festa per la statizzazione i 450 anni la neo direttrice d'Achille racconta il suo mandato la cantante Nada si siberà alle 21 al teatro degli illuminati a città di Castello mentre per Umbria Factory Off il rock degli horse lords allo spazio Zoot di Foligno per l'album del Corriere anche qui focus sull'accademia Pietro Vannucci 450 anni di storia e sentirli tutti alla presentazione proprio dell'anno accademico l'altra Teresa di Moniovadi intanto fa il pienone a città di Castello l'alfabeto delle emozioni con Stefano Massini scena appuntamento sabato sera alle 20.45 al nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto quindi raccontami l'Umbria tutti i vincitori il premio giornalistico della Camera di Commercio alla tredicesima edizione passiamo allo sport con il virgolettato di Massimiliano Santopatre presidente del Perugia se cambiasse allenatore prenderei sempre Castori l'attuale allenatore chiaramente fa il punto Santopatre dieci gare dalla fine spazza via chiacchiere sul suo rapporto col tecnico lui ci salverà e tutti allo stadio Curi adesso più che mai ancora reclama Santopatre Angeli di Serio intanto accelerano Olivieri lavora a parte invece per quanto riguarda il notiziario da Pian di Massiano la Sir di Perugia intanto detta legge in Champions League di Volle è schiacciata anche Berlino per 3 a 1 si impongono i Block Devil si intrasferta nei quarti di Champions League schiaffo e pugno al giocatore medico squalifica e stop fino al 30 giugno per un dirigente in eccellenza Gubbio Calcio Serie C terzo giorno di ritiro a Cascia verso la sfida di sabato contro il Cesena la squadra tornerà in città domani Ternana Ternana Falletti recupera Corrado non ancora per quanto riguarda anche qui le ultime dalla Ternana Calcio e poi Tireno Adriatico la sfilata di campioni entusiasmi il pubblico ma si pensa già al Giro d'Italia dai vertici della RCS arriva la conferma che Foligno è una sede eccellente per questo tipo di eventi si lavora per ospitarli dunque il prima possibile con tanto di foto della giornata della Tireno Adriatico che da Follonica è arrivata appunto a Foligno andiamo anche allo sport sul Corriere dell'Umbria anche qui la Sir va e sbanca Berlino davanti a 8.000 spettatori ipotecando il passaggio in semifinale Grifo Santo Padre ci salveremo con Castori conferma il presidente Fere crash test per i playoff una Ternana che non vince da fine gennaio cerchi il rilancio domenica nel big match contro il Genoa secondo in classifica Falletti tornato in gruppo scrive il Corriere Foligno in festa per la Tirreno Adriatica appassionati in fermento dal mattino tanti bimbi e cicloturisti alle 16.05 il belga Philipsen taglia il traguardo davanti a tutti siamo al lavoro per una frazione del Giro d'Italia conferma di fatti il sindaco Zuccarini questo dunque per quanto riguarda lo sport dove si parla anche di Gubbio Cesena si giocherà sabato alle 14.30 a pareggio a fare le carte alla partita Moreno Zebi doppio ex della sfida che analizza la gara difficile per entrambe le squadre rosso-blu devono fare attenzione a Corazza Spendi e Prestia indebolito dal mercato in attacco due cessioni per un arrivo questa l'analisi di Zebi per appunto il mercato di gennaio del Gubbio a Ferre fa cadere l'arbitro donna giocatore fermato per un anno donne gratis invece allo stadio a Città di Castello questa è l'iniziativa del club bianco-rosso per il match interno contro il Poggi Bonzi chiudiamo con il messaggero anche qui sì il successo da Champions League 3 a 1 a Berlino grande prova a muro 15 punti anche imbattuta con ben 10 ace Perugia Calcio l'appello di Santo Padre tifosi venita al Curi come nel derby e poi il appunto racconto su Deborah Broccolini campionessa di motori ma anche di solidarietà è stata lei di fatti a promuovere la raccolta fondi dello sport terapidei che si terrà all'autodromo dell'Umbria di Magione davvero complimenti ai successi dentro e fuori dalla pista per Deborah Fere maledetta ripresa intanto il punto sui secondi tempi non a livello dei primi per quanto riguarda una Ternana che ha un trend negativo sotto questo punto di vista qui l'allenamento tra ragazzi e ragazze anche Ternana Woman per appunto la giornata della donna Tirena Adriatico a Foligno e Philipsen l'uomo freccia con tanta anche qui di foto anche piuttosto suggestive di tanti appassionati mentre già si pensa al giro 2024 allo studio un acronometro con arrivo ad Assisi questo dunque per quanto riguarda anche lo sport ci fermiamo con la rassegna stampa per quanto riguarda appunto la parte legata a quanto visto dai giornali e dai siti internet ma torniamo quanto prima con il caffè dove parleremo di un servizio piuttosto suggestivo quello che riguarda i cani guida promosso dal Lions Club per persone non vedenti restate con noi grazie Grazie a tutti.